I corsi di difesa personale rivolti a donne sono più che mai un'opportunità educativa e comportamentale di cui si avverte la necessità nella nostra società complessa e violenta. Al centro fitness Gymnica, centro commerciale Monserrata, Sassari, si svolgerà uno di questi corsi dal nome Primum Vivere, dai tratti molto particolari. Si parla infatti di istinti primordiali e consapevolezza di sé, cose molto più sottili del semplice calcio sul cavallo dei maschi, considerata l'arma di difesa più efficace in caso di aggressione. I docenti saranno Graziano Galvani, che è anche autore di libri sull'argomento, e Angelo Sanna, istruttore di arti marziali e docente di scienze motorie. È un corso di difesa personale femminile, ma ha uno spaccato totalmente diverso. Parte da quelle che sono le capacità innate che ogni donna ha, quindi istinto, consapevolezza, capacità di lettura del linguaggio del corpo, per arrivare poi a una difesa personale a 360 gradi che non deve essere semplicemente la classica tecnica per potersi difendere, ma un discorso di prevenzione fatto comunque alla base. L'iniziativa è appoggiata da diversi comitati di quartiere che promuoveranno anche in futuro eventi simili. Il comitato vuole essere di sostegno a questa iniziativa perché poi è anche una delle prime che vengono presentate qua in città. Un'iniziativa estremamente importante, attualissima, per prevenire proprio questi drammi. Non è soltanto l'omicidio, il sepo. Ci sono gli effetti collaterali, gli altri che subiscono questo dramma, la famiglia. Dobbiamo cercare di stare vicino ai cittadini anche in questo modo. Il corso si svolgerà il 30 settembre dalle 16 alle 18 presso la Praestra Gimnica, obbligatoria la preiscrizione. Per informazioni si possono chiamare i numeri 347 95 65 616 o il 347 0901 586.